Ora, visto che hai nominato Borghi, voglio parlare un attimo anche della serie, anche se lo hai già fatto abbastanza, però è una serie che a me ha colpito tantissimo, perché quando io ho visto Supersex ho detto, oh, finalmente, andiamo a fondo su quella che è la vita di Rocco, però poi non mi aspettavo una vita del genere, perché io, poi correggimi se sbaglio, ho visto anche una vita con molta sofferenza. E mi ha veramente, veramente colpito. Ci sono state delle cose che non sono state addirittura esternate? Ci sarà un Supersex 2, diciamo. Allora, tutto quello che non è stato esternato, forse per via della sceneggiatura che hanno deciso di far vedere più una parte mia, magari anche un po' più, tanti dicono cupa, io dico un po' più reale. È la mia vita, reale, l'ho detto prima e lo riconfermo adesso, è il 110% che significa che se c'è una parte romanzata è solo per proteggere alcuni personaggi della vera famiglia, alla quale sono stati cambiati nomi e anche un po' sfalzati a livello di famiglia, cosa rappresentano nella mia famiglia, ma solo per la protezione loro. In realtà io non sarei mai in grado di raccontare la mia vita facendo finta di essere qualcun altro. Quindi è realmente la mia vita, la seconda serie se ci sarà non lo so, perché di solito già fare la serie su uno che vive è complicato. Se poi gli fai la seconda serie vuol dire che ha fatto una brutta fine, speriamo di no. Nei pensioni. Speriamo di no. La scelta di Alessandro Borghi è stata tua? Allora, la verità, sì, condivisa con Mieli, Lorenzo Mieli, il produttore fantastico, 25 anni fa, Lorenzo Mieli mi disse un giorno io e te faremo qualcosa insieme, devo dire che è stato fantastico. Allora, la prima idea era o sconosciuto o famoso. Io ho detto, ce n'è uno, uno in Italia che può rappresentarmi al top, che io vedo i miei colori, vedo qualcosa di me in lui, Borghi, Alessandro Borghi. Oltre al fatto che lo adoravo, l'ho amato tantissimo in Suburra, poi nel film dove ha fatto la parte di quel ragazzo, Cucchi. Otto Montagne anche, non l'ho visto, però è stato fantastico. E quindi ho detto, Borghi secondo me farà un lavoro fantastico, è stato top, 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 top. Io guardo l'unica parte, che poi l'ho detto anche durante la promozione, dove Borghi l'ho trovato presente, ma non riuscivo a vedere me stesso e solo nel momento del sesso, che tu mi dici, cazzo, ma quella era la parte principale. No, perché Borghi da scena a scena cercava sempre di interpretare probabilmente un rock un po' diverso e quindi ogni tanto lo vedevo un pelino arrabbiato. Esatto, si vedeva tanta rabbia durante la scena. Si vedeva tanta rabbia, l'hai notata anche tu? L'ho notata, sì, sì. Allora, questa rabbia, io l'ho chiamato a Alessandro, ho detto, Alessandro, ma come mai questa rabbia dentro? E lui mi ha risposto, interessante, dal tuo punto di vista, in realtà per me è immergermi nel personaggio sempre di più. Io ti dico la verità, per me la pornografia è stata la mia salvezza, adesso voi direte in che senso? Nel senso di vita, dolore, tanta sofferenza di mia mamma, tu mi dici cosa ti ricordi della tua infanzia? Sei anni, quando mori mio fratello, quella è l'unica immagine che ho della mia infanzia, poi da lì in poi mi ricordo tutto, prima niente, quindi per farti capire quanto sia forte, quindi vedere tanta sofferenza, io arrivo, poi ho avuto un problema fisico molto grande, mi sono rotto tutte e due le braccia a vent'anni con un incidente di moto, e quindi da lì in poi ho sofferto molto dolori di artrosi, per me arrivavo sul set già la mattina, ma anche la notte, la sera prima, sapendo che il giorno dopo si lavorava, già la mattina arrivavo, sparivano i dolori, i problemi, sei problemi a casa, quello che sia la sessualità per me è stato il mio rifugio, ma da sempre, anche dopo il matrimonio, anche con i figli, quando ero sul set ero libero, ero io, ero l'essenza di me stesso. Non ero arrabbiato sicuramente? Non ero arrabbiato, vedi? Lui è uno che ha visto esattamente quello che ho visto io, non ero arrabbiato, e con la parte lì un po' ho detto peccato, peccato, peccato. L'unico magari, se poi lo vogliamo trovare. Però, se proprio lo vogliamo trovare, però c'è un motivo, ripensandoci dopo, Borghi mi disse, Rocco, attenzione, mano a mano che tu vedrai la serie, più cose ti verranno in testa, ed è assolutamente normale. Devo dire invece che è rimasta solo quella roba lì, su tutto quello che ha fatto Alessandro, ha fatto un lavoro incredibile, eccezionale, quella roba lì gli ho dato un significato. Oggi non si poteva, e qui torniamo alla tua domanda iniziale, era il periodo giusto di fare una serie sul Rocco Siffredi? Ecco la risposta, l'hai data tu. No, e non sono stati loro liberi di far vedere un Rocco Siffredi che si gode la vita. It's the end in my head. Cioè quello che è venuto fuori nella mia testa è questa roba qui. Alessandro ha dato tutto, ma non poteva darmi anche la felicità sul set. Non poteva. Tra l'altro abbiamo visto anche una cosa in comune. Da quel punto di vista... Ah sì sì, no, Alessandro mi ha rappresentato al cento per cento. Ma è vero, è tutto vero. Allora ti dico la verità, all'inizio si era pensato di farmi fare una protesi per lui, ma non perché ce l'avesse piccolo, ma per avere un'erezione magari durante le riprese. Cioè per avere uno shot in cui Alessandro si muove, disinvolto, come ho sempre fatto io durante 40 anni davanti alla telecamera. In realtà lui non ne ha avuto bisogno e mi ha ridato l'aggeggio. Ho detto Siffredi, tienitelo nel comodino, mettilo là da qualche parte. Madonna, autostima, ragazzi. No, lui è grande.